Zio, zio, ho passato l'esame delle regole. Oh, bene, com'era? Era strafacile. Ah, bene, sono contento. Perfetto, perfetto. Ma adesso mi manca da prendere l'handicap. Ah, bene. Non so cos'è. Non sai cos'è l'handicap? So tutto. Letto su internet, ti spiego tutto. Guarda, penna, foglietto, segno tu. Ti faccio un esempio. Perché non è facile effettivamente capire che cos'è l'handicap, che poi è una sorta di vantaggio di gioco, ok? Per giocare tutti alla pari. Allora, per esempio, buca 1 è un par 4, segna par 4, ok? Quindi bisogna farla in quattro colpi. Buca 2, par 3, bisogna farla in tre colpi. Tre colpi. Perfetto. Diciamo che più o meno dalla 1 alla 18 ci sono par 4, par 3, par 5. La somma di tutti i par del campo fa generalmente, scrivi, 72 in un campo. 70, 71, 72, 68. In base al campo bisogna fare questo numero di colpi. Qui diciamo che Tiger Woods, quelli forti, Manassero, Molinari, ti piace vedere Manassero in tv? Sì. Devono fare più o meno 72 colpi e loro non hanno handicap, ok? O 72 o meno, chi fa meno a golf vince. Ma a te che inizi dici, come faccio a fare 72? E allora ti danno un aiuto, segna, 36. Il tuo aiuto è 36, quindi quanti colpi puoi fare? 72 più 36 fa? Eh, se non lo sai. 108. Segna. Perfetto, quindi Eva, quando tu riuscirai a fare 108 colpi, il tuo aiuto è 36, avrai fatto 72. Come quelli bravi della televisione, vedi che non è difficile. E se fai meno cosa succede? Metti che fai 106. Meno 36 fa 70 e iniziano a dire, ah, Eva è brava. E allora il tuo vantaggio di gioco diminuirà. Quindi cosa vuol dire? Qua ti viene l'auto lo zio perché te capisci. Allora, 36 è l'handicap iniziale, quindi non sei bravissimo a giocare a golf. Quando questo numero scende fino a 0, 0 chiaramente sarai la numero 1. Hai capito? Quant'è lo zio di Endica? Non lo sai. Saperlo. Meglio così. Ciao.